Assolutamente sì perché la venuta di Piero De Luca testimonia intanto la vicinanza del governo e di un'Italia intera a questa nostra terra di Calabria e quindi questo mi rinforza nel concetto che io sto esprimendo da sempre da quando ho aderito a questo cammino che i problemi della Calabria devono essere risolti insieme alle istituzioni, insieme al governo noi dovremo assolutamente arrivare a scrivere un patto nuovo per la Calabria con il governo non sulla Calabria ma con la Calabria, con i calabresi quindi la presenza di queste forze, di questi uomini giovani capaci che rappresentano anche l'innovatività, rappresentano le aree più importanti anche in questo momento in cui dovrà andare il nostro sviluppo sono ovviamente più che benvenuti, sono pezzi di squadra, dico io, importanti che mettiamo insieme tutti e della coalizione ognuno metterà i pezzi importanti della squadra esattamente perché vogliamo costruire una nuova Calabria quindi io registro questa forza importante e questo mi fa piacere, la voglio trasferire alla nostra collettività calabrese perché ritengo e lo ribadisco le istituzioni vanno riformate e cambiate dal di dentro e questi percorsi noi li dobbiamo fare insieme, altrimenti già abbiamo macerie, continuiamo a generare macerie e questo non è il mio modo di comportarsi, io ho sempre costruito e ho sempre costruito da dentro le istituzioni con forza, con lavoro, con passione, con determinazione ma sono rimasta in una zona, in un'area difficilissima a costruire però e la costruzione adesso deve andare in un raggio, come dire, più ampio sul territorio io finora, come ho spesso detto, mi sono presa in carico diverse decine e decine di migliaia di pazienti adesso mi prenderò carico del milione e novecentomila calabresi quindi le mie spalle sono forti, come diceva il mio professore francese, il professore Fonsen l'estensibilità la devono fare tutti i calabresi insieme a me perché spalle forti ed estensibili ci consentiranno di costruire una terra completamente nuova Se dovesse essere eletta sarà la governatrice della Calabria in un momento difficile per tutto il mondo che è quello insomma del periodo Covid, ancora le ondate sembrano non essere terminate come affronterebbe eventualmente una nuova ondata soprattutto adesso che insomma in questo momento in cui il Green Pass sembra insomma creare comunque degli scontri anche politici Io sono una donna di scienza, sono un medico, so che cosa significa fare programmazione che è quella che non c'è in questo momento e soprattutto le dico subito che di tutte le possibilità anche di risorse umane che questa terra e questo governo avrebbe potuto mettere in gioco e cioè circa 1700 errotti operatori sanitari e non affatto ha creato i disastri che sta creando quindi il problema si affronta con le risorse umane per le quali esistono le risorse si affronta con una pianificazione, con un'organizzazione che per noi medici è una passeggiata cioè si tratta di essere competenti nel settore, il problema è che non c'è stata una competenza nel settore questa destra ha registrato solamente disastri E durante una conferenza stampa il candidato governatore della centrodestra Occhiuto ha indicato che la strada per quanto riguarda il lavoro non è quella delle assunzioni pubbliche ma la strada sarà diversa quindi da questo punto di vista mi sembra invece opposta la sua posizione Guardi, io sono sempre stata una donna di sinistra pur non militando nei partiti credo nel pubblico in maniera forte dopodiché esiste anche l'integrazione pubblico-privata che in tutta una serie di regioni crea sinergie importanti ma il pubblico è il pubblico noi abbiamo un valore importantissimo che è quello nato con la 833 del nostro sistema sanitario che è esattamente una sanità uguale per tutti è quella che va rispettata in maniera profondissima perché noi non dobbiamo fare gli emarginati come abbiamo già purtroppo già creato con tutto questo turismo sanitario che non è ovviamente in grado di soddisfare e di aiutare i nostri calabresi quindi la sanità è pubblica su questo bisogna essere chiari l'integrazione è importante così come è importante in qualsiasi altro settore perché è evidente che le integrazioni pubblico-private sono oggi l'anima per riuscire a camminare ma è un'integrazione, non è un'saprofazione quindi su questo bisogna essere molto chiari e quindi quando il pubblico crea e dà la disponibilità a fare i dipartimenti di emergenza-urgenza che gli stanno propri anche il privato facesse i dipartimenti di emergenza-urgenza cioè bisogna giocare ad armi pari ci sono spiragli per un accordo anche con De Magistris sarebbe fondamentale forse per fare il punto perché comunque la distanza fra i due candidati non è tanta ma guardi la distanza è tanta non è vero che non è tanta la distanza è tanta perché io sono solo a due punti sottocchiuto e lui è molto giù quindi non ha speranza di vincere questo dobbiamo dirlo chiaro perlomeno ai sondaggi di oggi dopodiché l'apertura continua ad esserci dipende da lui io ho dato più volte la disponibilità ho registrato purtroppo negatività distanze e forme di separazione che purtroppo gli renderanno negativamente merito anzi demerito di andare a fare esattamente il centro avanti del centro destra quindi giocherà a favore di una distruzione della terra di Calabria oggi sono qui a testimoniare il sostegno forte, convinto, deciso del gruppo parlamentare, della Camera dei Deputati per Amalia Bruni quale candidata alla guida della Regione Calabria nei prossimi anni noi siamo convinti che grazie alla sua figura una figura di eccellenza, di competenza, di serietà una svolta sia possibile sia possibile davvero costruire un futuro di sviluppo di crescita, di benessere per questa terra che ha delle potenzialità enormi che sono state purtroppo inespresse negli anni passati il nostro obiettivo è quello di mettere insieme una squadra quanto più ampia forte, strutturata possibile, radicata possibile per lavorare a creare le condizioni per uscire dall'emergenza in cui versa costantemente la Calabria creare una Calabria nuova una Calabria che guardi al futuro con una programmazione e che possa davvero rompere quel divare quella distanza in termini di diritti, di opportunità di tutela e di servizi a cui purtroppo sono abituati i cittadini calabresi rispetto ad altre aree del Paese è una battaglia che stiamo facendo come democratici in tutto il mezzogiorno l'abbiamo fatto difendendo nell'ultima legge di bilancio le risorse importanti per esempio per gli sgravi fiscali legati alle assunzioni nel mezzogiorno sgravi fiscali rafforzati per le assunzioni dei giovani sempre da parte delle aziende nel mezzogiorno credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali in ricerca e sviluppo abbiamo dato un'attenzione forte, nuova al rilancio del sud del Paese anche e soprattutto investendo su uno strumento innovativo che è quello delle zone economiche speciali c'è un meccanismo che consente in alcune aree definite legate ai porti in particolare qui in Calabria ma in tutto il mezzogiorno per creare delle condizioni di vantaggio e di incentivo fiscale ma anche burocratico e amministrativo per attrarre sempre nuove imprese la nostra idea è quella di una Calabria che punti allo sviluppo che punti al rilancio occupazionale che punti ad attrarre le migliori energie in questo territorio e Amala Bruni è un esempio da questo punto di vista perché è una scienziata di fama internazionale che ha deciso di investire qui nel mezzogiorno che ha dedicato la propria vita al mezzogiorno, alla ricerca nella propria terra da questo punto di vista quindi è una figura diversa da tutte le altre perché ha da sempre scommesso e puntata sul proprio territorio non abbiamo bisogno in Calabria né di Masanielli che hanno già dato prova di disastro amministrativo lì dove hanno governato né di un tandem quello di Spirliocchiuto che in realtà fa da paravento alla peggiore destra la destra xenofoba che strizza l'occhio I know Vax I know Musk I know Pass una destra che continua a essere chiaramente antimeridionalista su questo punto vorrei essere chiaro il nostro gruppo la nostra formazione politica di centrosinistra ampia a sossegno di Amalia Bruni è l'unica in grado di difendere il mezzogiorno di difendere questo territorio e di raccogliere nei prossimi mesi e nei prossimi anni le opportunità che arriveranno anche e soprattutto in questo territorio in questa comunità dal piano nazionale di ripresa e resilienza I democratici hanno difeso il 40% delle risorse saranno più di 82 miliardi per il mezzogiorno abbiamo un'occasione storica non perdiamo questa opportunità di investimento e di sviluppo nella sostenibilità ambientale nel digitale nella coesione sociale e territoriale cioè nella creazione di nuove scuole nuovi asili nuovi centri di assistenza sociale sanitaria abbiamo un lavoro enorme e importante a fare l'occasione adesso Amalia Bruni è l'unica figura in grado di cogliere questa occasione di dare una speranza di futuro a questa regione Intanto le regioni del sud soprattutto rischiano la zona gialla dal governo una decisione che potrebbe sembrare magari ai cittadini che si sono vaccinati che hanno ospitato anche diversi turisti quasi una punizione che posizione avete in merito? Il Partito Democratico da sempre sta sostenendo una posizione di grande responsabilità e di grande attenzione innanzitutto sostegno al rafforzamento del piano vaccinale noi siamo convinti e speriamo che tutte le forze politiche facciano chiarezza in tal senso che i vaccini siano l'unica arma l'unico strumento per sconfiggere il virus e per vincere questa guerra per cui davvero l'invito a tutti a vaccinarsi perché il vaccino è l'unica arma che abbiamo a nostra disposizione il Green Pass è uno strumento utile non è uno strumento di dittatura sanitaria tutt'altro è uno strumento che consente invece di tenere aperte le nostre comunità di mantenere aperte le nostre attività economiche e mantenere in vita tutte le attività sociali che sono riprese e che dobbiamo fare di tutto perché non chiudano di nuovo per cui davvero l'invito a tutte le forze politiche a mettere da parte la propaganda la demagogia su questi temi che sono temi delicati che riguardano la salute la vita e il rilancio economico sociale delle nostre comunità per cui speriamo ovviamente che con l'aumento e l'incremento ulteriore del numero dei vaccinati in Calabria ma in tutto il paese si possano evitare ulteriori diciamo restrizioni che però qualora dovessero arrivare diciamo noi siamo pronti a sostenere con serietà e responsabilità e lealtà anche nei confronti del governo perché quello che non possiamo tollerare è avere forze politiche che in Consiglio dei Ministri votano a favore di provvedimenti seri attenti anche di misure sanitarie e poi in Parlamento se mai vengono a fare l'opposto come è accaduto ieri in Commissione Affari Sociali dove la Lega ha votato contro il Green Pass è un atteggiamento intollerabile che indebolisce il governo nella sua azione prioritaria e principale che è quella di tutelare la vita e la salute dei nostri cittadini